Ben ritrovati al nostro speciale di approfondimento di Gusano News 7. Oggi stiamo parlando di allevamenti intensivi e carne coltivata. Quella carne coltivata che tante polemiche ha suscitato e è stata anche bloccata, almeno finora solo verbalmente, ma probabilmente anche in maniera pratica e con una legislazione apposita dal nuovo governo appena insediatosi. E a proposito di questo, prima di tornare a parlare con il nostro ospite, con Nicola Smicheletti, che è il presidente di ETSA, un'organizzazione internazionale che si occupa di questi temi, io farei vedere un servizio che è stato mandato nei giorni scorsi durante i nostri TG. Non ci arrenderemo a mangiare carne prodotta in laboratorio. Lo ribadisce a chiare lettere il ministro dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare e Forestale Francesco Lollobrigida, che ha come obiettivo quello di riportare il settore al centro del dibattito e bene o male, partendo anche dal nome del ministero. Il neo responsabile del MASAF parla a Verona all'inaugurazione della 124esima edizione di Fiera Cavalli, manifestazione di riferimento per il mondo equestre a livello internazionale, nata nelle 1898 e che, assieme a Fiera Agricola, è la rassegna storica nel calendario di Verona Fiere. E' una rassegna straordinaria, con 124 anni di tradizione e di centralità del mondo equestre, afferma Lollobrigida, che coglie l'occasione per lanciare un rinnovato impegno sulle sistema fiere, cruciale per l'Italia. Riferendo di un incontro con i vertici della Fiera di Verona, rileva poi la necessità di ragionare di strategia, di un sistema importante in concorrenza anche con altri sistemi fieristici in Europa e nel mondo, che possa attrarre economie. E allora, Michele Retti, parlavamo prima delle tante questioni che sono intorno alla cosiddetta carne coltivata, dalla questione degli allevamenti intensivi agli interessi anche economici, che ci sono, come sempre, avviene quando arrivano delle novità tecnologiche che hanno bloccato o che rischiano di bloccare questo tipo di sviluppo. Però qui io vedo qualcosa di più, perché spesso le nuove innovazioni fanno paura e quindi ci sono delle resistenze, in larga parte a volte anche giustificate, anche corrette. Penso ai timori che ci sono, ad esempio, nei confronti, faccio due esempi, nei confronti del 5G o nei confronti dell'intelligenza artificiale, ma questo non ha bloccato lo sviluppo tecnologico e l'innovazione in quei campi. Perché invece qui si tende a dare un colpo di freno abbastanza decisivo? Il punto è che è colpa dei giornalisti che non fanno informazione, a differenza vostra, ma la maggioranza dei giornalisti non fa informazione. Tante persone non conoscono questa innovazione e se la conoscono hanno sentito tante cose false. Già a partire da come la chiamano, perché magari a volte si sente parlare di carne sintetica quando si parla di carne coltivata. Già quel termine, carne sintetica, è un dispregiativo stupido inventato dalle lobby della carne perché il nome scientifico è carne coltivata, perché si ottiene con la coltivazione dei tessuti. Però carne sintetica appunto paventa e quindi molte persone credono che questa cosa qui è fatta in laboratorio, chissà cosa contiene, chissà come la fanno. I laboratori in cui realizzano la carne coltivata hanno pareti di vetro. In America hanno fatto un impianto con le pareti di vetro, cioè dove tutti possono vedere come viene realizzata, che poi è una citazione a Tolstoi, perché Tolstoi diceva che se i macelli avessero pareti di vetro saremmo tutti vegetariani. Ecco, i laboratori di carne coltivata ce l'hanno perché chiunque può vedere come si realizza in un ambiente completamente antisettico, come si parte da delle cellule e si ottiene la carne. Noi oggi abbiamo una crudeltà e una dita verso gli animali negli allenamenti intensivi che non è più necessaria grazie a queste innovazioni. I giornalisti non ne parlano, ma ci sono, per esempio, vorrei dire un'altra cosa per cui scupisce perché i giornalisti non ne parlano. Questa carne coltivata, questa nostra iniziativa è stata attaccata da tantissimi politici importanti in Europa. Prima ho citato l'ex vicepresidente della Polonia, ma ci sono anche altri parlamentari europei come Ester e Rand, ce ne sono diversi. Ne parlano tanto in Europa, ne parlano i politici. In Italia ha avuto il sostegno di alcuni partiti, tre nello specifico, che sono uno, il Partito Animalista Italiano, comprensibilmente, che è piccolo, poi un altro piccolo è Unione Polare e un altro, un po' più grande, è il Movimento 5 Stelle, che ha messo in programma elettorale proprio il sostegno a End Slotter Age, la nostra iniziativa. Si può proprio trovare nel loro programma End Slotter Age. Quindi non c'è quell'unanimità politica di cui parlava Lollo Brigida il giorno dell'insediamento. Esatto, cioè uno dei principali partiti in Italia ha scritto la nostra iniziativa End Slotter Age nel loro programma. Poi non sono più a fare propaganda per un partito o per l'altro, anzi 5 Stelle a parole, sì, ci ha inserito nel programma, poi in realtà non ci sta aiutando tantissimo la raccolta firme che stiamo facendo, quindi come al solito sono un po' il cerchio, la botte, no? Però non c'è l'unanimità assolutamente. Quello che io temo è che si rischi che la carne coltivata diventi un po' un tema polarizzante, no? Finistra a favore, destra contro, che però è una sciocchezza perché è vantaggiosa per tutti. Io capisco che i partiti più conservatori e tradizionalisti magari cercano di mantenersi i voti degli allevatori, di chi lavora nella zootecnia, che sono tante persone, ma qui stiamo parlando del futuro del pianeta, perché se noi non rendiamo il cibo più ecosostenibile, cioè il settore più impattante in assoluto sull'ambiente, se non rendiamo più ecosostenibile non c'è un futuro per tutti, non solo per destra e sinistra. E sul riscaldamento globale è un tema che dovrebbe riguardare tutti, per esempio, chi è contrario all'immigrazione dovrebbe essere consapevole del fatto che tra qualche decennio, a causa del suo riscaldamento globale, la vita intorno all'Equatore diventerà impossibile. Quindi inizieranno a esserci tantissimi migranti climatici che vengono dall'Equatore. L'ONU ha stimato che entro il 2050 ci sarà circa un miliardo di migranti climatici. Ecco, quindi anche le persone, anche i partiti di destra, che vogliono un po' trattenere l'immigrazione, dovrebbero occuparsi del cambiamento climatico, perché non ci sarà soltanto una riduzione del cibo disponibile, in quanto il riscaldamento globale fa seccare il terreno. Pensi che solo in Sicilia è calata la produzione di pomodori di oltre il 60%, cioè il riscaldamento globale non permette più di coltivare. Quindi ci sarà una riduzione del cibo, ci sarà un aumento dell'immigrazione, ci saranno danni socio-economici devastanti e tutto questo sarà non molto, perché se per quanto noi vediamo adesso gli effetti del riscaldamento globale crescere lentamente, lentamente, cioè magari sì, l'estate fa più caldo, ogni estate è più calda di quella precedente, però apparentemente non sembra poi così grave la situazione. Quello che le persone dovrebbero capire è che questa problematica a un certo punto inizierà a crescere in modo esponenziale, cioè all'improvviso i problemi inizieranno a crescere in modo estremamente, in modo iperbolico, come una pallina su un piano inclinato che accelera sempre di più. Ecco, noi avremo questo problema, noi non dobbiamo arrivare a quel punto lì, al punto di non ritorno, che è previsto tra molto poco, noi dovremo intervenire prima a partire dal cambiare il modo di produrre carne. Noi non vogliamo proibire il consumo della carne, noi stiamo dicendo cambiamo il modo di produrre carne, creiamo carne più sana, più etica, più ecosostenibile. Questa cosa è possibile, l'opposizione che vediamo è esclusivamente per interessi politici, è esclusivamente per i voti degli allevatori, ma qui non è in gioco il futuro degli allevatori, qui è in gioco il futuro di tutti. Come ho detto, la carne coltivata riduce le emissioni serra di oltre il 90%, soprattutto quelle di metano, che sono le emissioni serra più distruttive. Noi si parla tanto di CO2, ma in realtà il metano è centinaia di volte più distruttivo della CO2 e il passaggio alla carne coltivata permetterebbe di azzerare le emissioni di metano, ma soprattutto utilizzando oltre il 90% di terra in meno, significa anche fermare la diforestazione e invertirla, cioè possiamo ritrasformare i campi oggi utilizzati per i mangimi in boschi, in natura, e questo ci permetterebbe di stoccare la CO2, perché gli alberi sono il modo migliore per rimuovere i gas serra dall'atmosfera. Il problema è che oggi li stiamo abbattendo per fare i campi dei mangimi, che ripeto, questi mangimi, alcuni pensano che magari li produciamo in Italia, no, non è così. L'Italia importa oltre l'80% dei mangimi dall'estero e spesso da paesi poveri, da paesi dove le persone muoiono di fame e ci sono padri di famiglia che hanno dei campi e potrebbero usarli per coltivare il cibo, per sfumare i loro figli, e invece utilizzano quei campi, li vendono a noi occidentali, per fare le monoculture di mangimi degli animali che ci mangiamo qui in occidente. Quindi paradossalmente sta dicendo che il Ministero della Sovranità Alimentare, proprio in quanto sovranità alimentare, dovrebbe sostenervi anziché boicottarvi. Allora, molto interessante quello che ha detto finora Micheletti e io spero di riaverla qui con noi in una delle prossime puntate, in una delle prossime edizioni e intanto la ringrazio per averci chiarito un aspetto che, come lei ha sottolineato più volte, spesso l'informazione non approfondisce. Grazie Micheletti. Grazie a voi per l'ottimo lavoro di informazione che fate. Grazie. E con questo concludiamo il nostro speciale approfondimento. Grazie per averci seguito e buona prosecuzione su Cusano News 7.